scientificast il podcast più amato dai colori e alla puntata 441 benvenuti in questo nuovo episodio di scientificast e la puntata 441 e questa è la prima puntata dell'anno del 2023 e ci siamo ovviamente la seconda perché in realtà la prima che è quella uscita che è lunedì 2 registrata in realtà ancora nel 2022 questa è la prima registrata registrata nel 2022 come avete potuto sentire ci siamo io luca da milano e andrea da genova diciamo che l'accento corrisponde di più alla città mettiamola così sì no io proprio sono rilocato traslocato andre abbiamo una bella puntata oggi però molto molto storiografica i colori vicino quanto è lontana l'islanda mi ha fatto scoprire andre una perla che per cui riderò per giorni fateci sapere se cogliete la citazione nell'intro della puntata i coreandoli i sassi l'islanda l'islanda vicino a padova l'islanda ok direi che possiamo iniziare a parlare di colori no perché se no ho detto così sembra che sono impazzito ma in realtà giustamente parliamo della chimica dei colori la chimica dei colori in particolare delle tinture questa è una cosa interessante perché forse non ci facciamo mai caso a tutti gli abiti che vestiamo come ogni abito sia di un colore diverso da cosa deriva questo colore da quali sono le molecole che caratterizzano i vari colori ad esempio io ho un maglioncino di colore nero e andre invece ha un apolo che è un colore pistacchio verde acido un colore che offende l'occhio però possiamo dire che entrambi sono caratterizzati da preparati attraverso l'impiego di molecole che hanno ovviamente delle caratteristiche proprietà fisiche diverse ed è in particolare dei gruppi funzionali che sono delle piccole gruppi di atomi che vanno a demettere diversamente nel visibile e per questo in base all'emissione del visibile il nostro occhio riesce a percepire i vari colori però voi mi direte da dove vengono questi colori innanzitutto partiamo dal presupposto che noi come noi umani noi specie tingiamo più o meno da quando siamo stati in grado di costruire fabbricare tessere in generale fare delle operazioni molto complesse dal punto di vista evolutivo diciamo che il primo esempio di tintura risale a circa 6200 anni fa quindi non è non sembra tantissimo però se consideriamo che i primi insediamenti dal punto di vista definiti veri e propri si risalgono alle civiltà umane prescrittura intorno ai 8000 anni quindi diciamo che 6200 anni comunque sembra abbastanza vicino a quando 6200 anni penso che sia più o meno il periodo in cui gli ebrei sono scappati dall'Egitto o forse le prime scritture non è che sono tanto forse il periodo mesopotamico sumeri questa queste prime civiltà della scrittura e che cosa tingevano il primo colore che è stato prodotto ovviamente naturalmente viene dalle piante della specie indigorifera e come si può forse percepire dal nome indico è l'inglese equivalente per indaco in italiano e infatti questa pianta veniva chiamata indaco dei tintori quindi il primo colore che è stato prodotto è un blu indaco pensiamo si è sempre pensato in realtà dal punto di vista anche del fashion potremmo dire che i colori provenienti da pigmenti di origine naturale in realtà siano smorti cioè che diano delle sfumature abbastanza come dire non abbiano toni molto saturati deboli in realtà è tutto è molto spesso come possiamo vedere anche dal punto di vista sintetico è tutto il contrario i colori più vibrant come potremmo dire accesi si ottenevano ad esempio il rosso dalle piante dalle da degli insetti che erano le cocciniglie che davano che sono stati fondamentali nello sviluppo delle tinture e fecero anche molto la ricchezza di alcuni popoli come gli spagnoli e portoghesi durante il periodo delle delle scoperte geografiche perché avevano il monopolio sull'esportazione e sul metodo di produzione del rosso di cocciniglia ma tornando cocciniglia in arabo no al kermes al kermes come liquore perché originariamente era tinto con la cocciniglia esatto questo anche perché sono naturali e quindi si possono la cocciniglia usata infatti anche come additivo alimentare si trova anche in molti anni là però se non mi sbaglio qualunque quelli cuori comunque rossi se ancora si utilizzano o il campari avevo letto una volta però un altro per esempio di volendo tornare ancora indietro si pensa sempre molto alla porpora no il manto di porpora che veniva utilizzato anche dai senatori romani eccetera la porpora veniva ricavato dal murice che non so se tutti hanno visto è quella conchiglia che ha tantissimi bitorsoli quindi ha quella parte frontale molto grossa forma circolare con un piccolo più stretto come possiamo dire terminazione quindi ha una forma quasi come se fosse una sfera con un puntale e dal mollusco del murice si ottiene il porpora vero e proprio che in realtà è chiamato anche rosso fenicio oppure viola di tiro quindi come veniva inizialmente chiamato però queste sono tutte delle sfumature come abbiamo visto molto forti quindi di rossi o di blu eccetera sembra molto strano ma è il colore che noi riusciamo a percepire meglio fisiologicamente con l'occhio con il nostro spettro diciamo di percezione delle lunghezze d'onda che è fissato non a caso sul verde dal punto di vista evolutivo i nostri bastoncelli sono selezionati le cellule presenti fotorecettori nell'occhio sono molto bravi a percepire tante sfumature di verde però non siamo mai stati in grado dal punto di vista di colori naturali o meglio molto difficilmente di produrre il colore verde e infatti inizialmente si utilizzavano dei pigmenti a base di rame quindi i solfati di rame anche se tendevano andare verso più il blu piuttosto che il vero verde c'è anche da dire che il dal punto di vista del della della tintura in generale non tutti potevano permettersi di utilizzare questi coloranti che erano costosi ciò però che era costoso in realtà non era la matrice quindi l'insetto oppure la pianta per dire di partenza bensì il processo la differenza ciò che caratterizzava un abito per esempio di fattura importante da uno più povero non era tanto il pigmento ma il mordente tutti gli altri strumenti diciamo trattamenti potremmo chiamare trattamenti che venivano impiegati per far aderire il colore e stranamente questa cosa non forse non tanto stranamente continua ancora oggi però il primo che cambiò passò da virgolette dai pigmenti di origine naturale a quelli di origine sintetica fu william perkin nel 1856 siamo in epoca vittoriana e questo signore fu il primo a produrre un colorante di origine sintetica ed in particolare un verde che è stato poi chiamato il verde di anilina la produzione del verde di anilina però aveva un effetto contrario molto grave conteneva arsenico quindi come possiamo immaginare non l'arsenico non è una cosa molto molto bella da avere addosso infatti le signore vittoriane soffrivano molto spesso poiché con la sudorazione l'arsenico veniva segreto ovviamente dalla fibra del di cotone andava a contatto con la pelle poteva produrre infiammazioni pustole ma per anche di più perdite di capelli e in generale portava anche a gettili di sangue quindi con tosse eccetera quindi comunque qualcosa di non molto bello da avere addosso ti faccio ridere perché adesso sembra che dico adesso sono i nomi di tutte le cose in lingue strampalate sai come si dice arsenico in russo no veleno per i topi beh ci azzeccava perfettamente infatti si chiama direttamente così veleno per topi giusto così nonostante questo però le signore vittoriane continuavano a vestire il verde di anilina quindi un'altra persona importante morte emerita a causa del verde arsenico è stato napoleone si dice che nella sua prigione tra virgolette casa di sant'elena le pareti fossero state dipinte con una carta da parati a base con pittura a base d'arsenico e quindi l'imperatore con tutto il tempo che è stato lì abbia poi ha assorbito i fumi derivanti dalla dalla carta da parati e quindi sia il suo poi mi sembra sia morto di qualcosa di micose cirrosi o qualcosa dal punto di vista di sistema digerente un tumore comunque è stato probabilmente provocato dal dall'arsenico quindi una cosa come potete capire non molto carina cercando di sopperire a questo problema si è cercato di sviluppare altri composti e nel 1863 poco dopo la scoperta di perkin vennero come dire scoperti i azza derivati o coloranti a base di gruppo azza il gruppo azza è molto carino dal punto di vista chimico perché è caratterizzato da un doppio legame dell'azoto quindi azoto azoto doppio legame collegato rispettivamente quindi se immaginate i due azoti al centro con un doppio legame un carbonio a sinistra e un carbonio a destra questi gruppi si condensano in una molecola aromatica quindi immaginate un anello caratterizzato da questo da queste due tratomi di carbonio azoto in due gruppi a formare un manello a 6 e questi permettevano di proprio di produrre un range di colori che spaziava dal blu al giallo in base al tipo di struttura chimica che erano molto carichi accesi e soprattutto una cosa molto interessante dal punto di vista chimico erano fotostabili il che significa che l'esposizione alla luce non andava a compromettere la resa in colore perché altrimenti gli abiti si stingono esatto andavano a stingersi col tempo ovviamente anche i coloranti a base di gruppo di base di questi azza derivati diciamo che non fossero molto sostenibili sia dal punto di vista ecologico ma al momento anche oggi nessun colorante processo di tinteggia tinteggiatura di fibre è sostenibile però a quel tempo ancora peggio perché questi derivati erano molto pericolosi meno della delle delle verde di anilina però sono stati reputati carcinogenici quindi in misura più o meno forte è quindi andrea mi guarda in un modo una cosa molto 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 così ora parliamo di un'altra cosa questo è dal punto di vista dei pigmenti di per sé ovviamente affinché un colorante aderisca quindi venga sì praticamente letteralmente agganciato ad una fibra quindi perché i nostri abiti sono costituiti da fibre che siano sintetiche o naturali è necessario trattare chimicamente la fibra in che modo in generale dipende dal tipo di fibra il cotone è una fibra idrofilica generalmente tende a preferire il contatto con l'acqua anche in fase di lavaggio mentre il poliestere che in pratica è quasi l'ottanta per misto cotone o poliestere o solo poliestere il pile è invece una fibra di tipo idrofobica quindi potete immaginare che in base al tipo di fibra che si va a selezionare anche il colorante quindi il pigmento dovrebbe cambiare questa cosa non è molto vera infatti si utilizzano a volte gli stessi pigmenti per fibre diverse con il risultato scusa se ti interrompo magari il vetto cioè immagino che il pigmento sia una roba che quando deve essere trattato è sciolto un qualche solvente e poi il solvente evapora o viene rimosso in qualche maniera e il pigmento rimane agganciato al substrato quale che esso sia sto usando termini casuali in realtà è giusto però dipende sempre dal tipo di pigmento se hai un pigmento che è idrofilico quindi tu vai a scioglierlo in acqua e poi lo metti a contatto con la fibra di poliestere ok la fibra di poliestere non riceverà in nessun modo il pigmento cioè oppure in una quantità molto molto bassa se invece hai un pigmento che è solubile in solvente organico a quel punto per interazione di van der waal quindi per interazione elettrostatiche è molto più facile far aderire il colorante al poliestere senza contare che non si possono utilizzare dei solventi organici molto forti perché andrebbero a sciogliere il poliestere che è anche esso solubile in solvente organico esatto è solubile in solvente organico quindi non posso e poi anche dal punto di vista del processo industriale utilizzare tipo il toluene o un qualche solvente molto forte non è eco friendly per niente ma ovviamente di questa cosa nessuno se ne frega e si usa il naftalene per esempio che fa male allo stesso modo per alcune preparazioni per poter implementare questo binding questo legame tra il colorante e la fibra che a livello di danno biologico per gli umani il naftalene sia peggio del toluene sì sì decisamente ora un'altra cosa da considerare poiché la resa in colore è molto bassa a seguito di questi processi di conseguenza va utilizzata un camion e poco di acqua per poter si è si è si stima appunto che un processo di tinta di una fibra di una di un capo richiede più o meno 150 litri d'acqua non so se mi spiego quindi si stima che più o meno annualmente vengano impiegate 200.000 tonnellate di acqua che sono contaminate ovviamente perché abbiamo questi coloranti che nella maggior parte dei casi sono appunto o tossici oppure poco smaltibili e in questo è l'acqua appunto viene rimessa in un circolo scusate ma in realtà viene in genere smaltita nell'ambiente e quindi causando anche danni ambientali non poco diciamo danni ambientali importanti quindi quello che succede dal punto di vista chimico è come se tu volessi andare a prendere un mare di acqua con un colorante per poter tingere in pratica un solo capo e è un processo che sia chimicamente che ovviamente dal punto di vista ambientale sfavorito il 20 per cento della dell'inquinamento dell'acqua è infatti attribuito dal dai processi di tinta dei capi di abbigliamento ora da questo buco in cui siamo fiondati di negatività in cui sappiamo che è tutto brutto ed è non è sostenibile c'è però ci sono vari processi che sono stati sviluppati negli ultimi 10 anni 15 anni in realtà quindi per fortuna si migliora si è già migliorati tantissimo che è piuttosto che sfruttare il numero quindi tanta acqua tanto colorante alzo l'efficienza semplicemente aumentando questi tipi di processi a monte scusami a valle a monte si è preferito agire modificando quindi trattando la superficie delle fibre ok il cotone è una fibra facilmente tingibile perché è una fibra di origine naturale contiene proteica quindi ha sia dei gruppi carichi positivamente che gruppi carichi negativamente tendenzialmente carico negativamente se per esempio voglio farlo interagire con un colorante che ha una carica negativa quindi voglio aumentare la carica positiva del cotone lo vado a trattare l'ossido e in questo modo il cotone sviluppa più gruppi positivi che mi interagiscono con il colorante negativo questi tipi di trattamenti sono diventati oggigiorno fondamentali per poter aumentare la resa dei colori un altro esempio si fa sul poliestere sul poliestere c'è l'effetto contrario il poliestere è molto idrofobico se voglio renderlo idrofilico si fa un trattamento con per esempio il plasma oppure si può utilizzare un degli acidi molto leggeri che vanno a intaccare solo lo strato superficiale della fibra per poterla rendere più idrofilica oppure si utilizzano dei nuovi solventi che non sono pesanti tossici come quelli che vi abbiamo parlato in precedenza questo permette di generare uno swelling quindi un ingrossamento della fibra e la fibra ingrossandosi quindi assume più colorante un altro esempio invece che avevo trovato è modificati sub della superficie utilizzando delle specie miste di carbonio che di cui io non ero tanto a conoscenza si chiamano carbeni sono delle specie in cui i carboni che costituiscono la molecola hanno sia carica positiva che carica negativa quindi in questo caso si crea una molecola multivalente quindi che entrambe le due cariche e permette di essere più facilmente utilizzabile con coloranti a specifici mentre un'altra cosa molto carina in realtà per cui si sta tornando di nuovo verso la natura è quello di non sfruttare più sostanze naturali e quindi fare over farming come dicono in inglese quindi quello di andare a coltivare in maniera eccessiva magari piante oppure sfruttare animali che possono essere appunto sfruttati in maniera negativa per poter produrre colori e ovviamente utilizzare la microbiologia cioè sfruttare batteri che sono ingegnerizzati per esprimere geneticamente un particolare colore e questo si può fare in maniera sostenibile perché i batteri vengono impiegati normalmente per generare biomasse che poi vengono utilizzate per esempio per i biocarburanti oppure anche per produrre le fibre tessili sono dei batteri che sono in grado di produrre tessili delle fibre e delle plastiche biodegradabili se vengono foraggiati con la molecola da cui è costituito il polimero quindi quella plastica e al contempo possono essere bioingegnerizzati con degli enzimi oppure delle diciamo altre tipo di strutture biologiche contenenti magari il cromoforo che sarebbe la molecola che permette di emettere il colore e quindi durante il loro processo di crescita lo sviluppano un esempio vecchio quando il cucco in biologia per esempio è l'agfp cioè quindi l'emissione di molecole fluorescenti quindi i batteri diventano a seguito nelle varie generazioni se gli si introduce questa molecola iniziano a diventare fluorescenti e quindi in laboratori si usano come dei marzo per poterli tracciare molto meglio in caso di blackout utilissimi e quindi c'è una ricerca magari di cui posso parlare in un secondo momento in maniera più specifica su dei batteri che in pratica vengono sono stati ingegnerizzati per poter produrre una nuova sfumatura di indaco e quindi in realtà da 75 kg di batteri si possono produrre un chilo di indaco che è una resa più che buona considerando tutti tutti i valori che abbiamo comunque considerato che abbiamo detto prima 75 kg di batteri voi direte sì sono tantissimi però se ne usano molti di più per esempio per la produzione di biogas o anche altre cose infatti anche solo che quelli che ciascuno di noi hanno su intestino sono una massa considerevole quindi 75 kg di batteri non sono questa quantità così gigantesca esatto io credo che tu ci abbia aperto un mondo straordinariamente vasto con alcune implicazioni abbastanza abbastanza anche ostiche a tal riguardo alcuni di noi un po di tempo fa hanno collaborato con la produzione di un podcast che non è dentro scientifica ma poi lo cerco e cerco di metterlo nelle note proprio sulla fast fashion cioè sui danni ambientali che fa il mondo della moda quando non è semplicemente il mondo della moda ma il mondo della moda veloce il che vuol dire che vengono prodotti tantissimi abiti a costo molto basso che poi vengono sostanzialmente utilizzati o molto poco o proprio per nulla cioè rimossi dal mercato e distrutti questo è un atteggiamento che ha un impatto ambientale estremamente grande quindi insomma se cerchiamo di ridurre i consumi dove è facile ridurli ovvero dove la riduzione dello spreco sostanzialmente è il nostro mezzo per ridurre i consumi probabilmente è un favore che facciamo al nostro pianeta sì sicuramente ok credo che sia giunto il momento di dare la linea alla nostra romina che ha intervistato già la fiera bracci che è una nutrizionista la settimana scorsa abbiamo parlato con Ilaria dell'effetto di una dieta troppo grassa sul nostro organismo ora stiamo uscendo dal periodo delle feste quindi credo che sia un segno quello che abbiamo in programma un'intervista a una nutrizionista che però in realtà ci parlerà di qualcosa di molto positivo cioè del rapporto tra cibo peso e forma del corpo e di come tutto questo vada in qualche modo contestualizzato anche per aiutare a farci accettare quello che non è esattamente lo standard culturale a cui siamo abituati benvenuti in questo intervento esterno io sono Romina e sono oggi qui con Giada Diorabracci ciao Giada benvenuta buongiorno buongiorno a tutti e tutte grazie per essere qui Giada è una dietista e ultimamente nel suo lavoro si occupa in particolare di curare la parte dei disordini del comportamento alimentare giusto? Giusto. Allora ci vuoi spiegare un attimo questa cosa dei disordini del comportamento alimentare come in cosa consistono e come vengono trattati? Quando si parla di rapporto con il cibo di solito per raccontarlo si immagina uno spettro che hai come lo spettro dei colori idealmente a un'apice c'è il rapporto con il cibo quello spontaneo idilliaco che un po' ci immaginiamo segue la fame segue la società sono serena e al polo opposto ci sono invece quelli che vanno chiamati i disturbi del comportamento alimentare quindi quelle situazioni un po' più patologiche cliniche proprio diagnosticate e riconosciute dove il rapporto con il cibo diventa molto molto difficile c'è però una zona grigia nel mezzo che sono appunto i disordini del comportamento alimentare che non sono una situazione patologica però sono una situazione in cui il cibo inizia a essere un po' un problema nella vita della persona un po' un pensiero uno stress qualcosa che comunque durante la giornata un pochino pesa magari ci sono un po' dei loop un po' dei nodi che si iniziano a creare riguardo alcuni aspetti del cibo e quindi in quel caso andiamo a lavorare per cercare di ricreare un rapporto con il cibo che si sposti un pochino di più verso quel punto di inizio di un rapporto un po' più spontaneo un po' più di benessere un po' più sereno. Ok quindi no questa è una cosa interessante perché spesso magari si danno per scontato cose del tipo che se mangio dei dolci mi sento in colpa è una cosa che è strano se non accade invece può tranquillamente succedere che che non che non sia così. Sì sì è uno dei lavori è proprio questo che quella zona di grigio nel mondo di oggi è un po' con la narrativa riguardo al cibo al corpo di oggi è molto normalizzata no nel senso è ormai quasi normale essere tutti a dieta è quasi normale avere dei cibi che evitiamo dei cibi con delle frequenze prestabilite e quindi anche solo riconoscere che se questa cosa non ci fa stare bene può essere effettivamente non ci passa stare bene non è per forza la normalità è parte poi dell'inizio dell'input di questo tipo di percorsi di cura. E quindi come detto appunto questo rapporto con il cibo che viene appunto magari dall'esterno dalla cultura si relaziona molto anche con il rapporto poi con il peso e con il corpo e all'importanza che viene data a questi dall'esterno insomma. Esatto di solito e questo penso sia abbastanza intuibile anche pensando a se insomma o a chi ci abbiamo intorno i motivi più grandi che di solito portano a iniziare a guardare il cibo come qualcosa da controllare in qualche modo da regolare sono di solito due. Uno è la salute, il secondo che è quello che però ha radici più forti in quello che sono anche le narrazioni del mondo e le spinte esterne sicuramente quello del corpo, il corpo ancora più nella sfera femminile dove poi si lega a tutto quello che è l'ideale di bellezza, a tutte quelle che sono le pressioni in questo senso no? Quindi piano piano, nemmeno tanto piano se possiamo dirlo perché inizia dai tre anni in su, si inizia a creare dentro di noi questo guardare il nostro corpo come qualcosa da in qualche modo dover cambiare per avvicinarci a qualcosa di più puntini puntini e il cibo diventa un modo per farlo. Ok quindi ci sono studi che sono stati fatti in relazione appunto al fatto che la forma del corpo, il peso, la massa corporea in realtà non è così strettamente legato ai parametri di giusto e sbagliato che o di sano o non sano che abbiamo nella nostra mente, nella nostra visione culturale. Sì, portiamo tanto dentro, un po' da queste narrazioni del mondo di cui parlavamo, l'idea che ci siano dei pesi giusti, cioè essenzialmente un corpo è giusto e un peso è giusto quando rientra in una sfera di magrezza. Possiamo allargare un pochino questo concetto ma bene o male è lì. Quando un corpo, soprattutto se un corpo ha un peso invece più alto, quindi un corpo più grasso, allora sicuramente c'è qualcosa che non va, perché un corpo naturalmente non starebbe lì. Se è lì vuol dire che qualcosa stona. Ora, questo è sempre stato dato un po' per assodato, un po' per scontato in qualche modo, anche perché non è mai stato messo veramente in discussione, soprattutto per il contesto sociale in cui si è sempre vissuti, no? Ci sono alcune evoluzioni anche nella scienza, anche nella ricerca, che comunque risentono del mondo in cui viviamo, perché ovviamente la ricerca e la scienza la fanno poi le persone, le persone portano con loro un po' i loro filtri, la loro epoca, no? Per dire, fino a qualche decennio fa i studi erano fatti tutti su uomini, poi quando si è incominciato a vedere che i dosaggi nei farmaci però nelle donne qualcosa non andava, sono state incominciate a spostare un po' questo focus, tanto che tante malattie tipiche della sfera femminile come le endometriosi ancora sono in una fase iniziale di studi, ok? Questo perché alcuni cambiamenti anche nella medicina vanno di pari passo e si aprono e si rendono sempre più profondi mano a mano che va di pari passo l'evoluzione anche del mondo in questi temi. Certo, ne abbiamo parlato anche in realtà in qualche puntata con la fisica, cioè la fisica dovrebbe essere il modo di vedere la realtà nel modo più oggettivo, però poi ci sono delle visioni che vanno più di moda di altre, è tutto determinato si dà dalla cultura. Esattamente, esattamente. Così anche un po' per la forma del corpo, però un po' per il tema peso, quindi fino a 20-30 anni fa non ci si poneva molto la questione, era dato per assodato che ci fossero dei pesi giusti, questo ha radici storiche molto grandi e gli altri fossero sbagliati. Negli ultimi diciamo 20 anni abbiamo cominciato a studiare, a capire se effettivamente fosse così e sono stati fatti diversi studi a riguardo. Ce ne sono, allora, ce ne sono tre secondo me molto d'impatto, ma ovviamente sono solo rappresentativi, poi ce ne sono stati fatti tanti tanti altri. Uno si è concentrato soprattutto sull'intake calorico, quindi ci si è chiesti, ma è vero che se uno ha un corpo più grasso mangia di più, se il peso invece è un peso, usiamo i termini dell'indice di massa corporeo in questo contesto. Ha un normo peso, allora mangia meno e se è sottopeso mangia ancora meno, cioè veramente questa correlazione, il peso dipende da quanto mangio. In questo studio che è stato fatto in realtà abbastanza recente, nel 2015, su tipo 500 persone, è anche abbastanza attento perché venivano monitorati effettivamente i pasti delle persone, eccetera, quindi c'era un controllo un po' più stretto. È stato visto che in realtà in media c'era una differenza minima fra le differenze categorie di peso e l'intake calorico, quindi più o meno l'intake calorico, quante calorie ogni persona assumeva, era simile fra i diversi fasci di peso. Ok. Poi ci si è posto un'altra domanda, allora se non è quanto si mangia, sarà cosa si mangia? E quindi sono stati fatti una serie di studi per vedere se ci fossero delle differenze sostanziali nella qualità dell'alimentazione. Per misurare la qualità dell'alimentazione ogni paese ha un po' il suo indice, ok? Però essenzialmente sono tutti indici che funzionano in maniera simile, del tipo hanno un punteggio, mangio integrale, sì, no, quante verdure mangi, quanta frutta mangi, quanti dolci mangi e tiene il punteggio finale. Ok. Ne è stato fatto uno nel 2004, quindi uno di quei capostipiti, diciamo, di questi studi negli USA su circa 10.000 persone e poi è stato fatto invece uno più recente nel 2017 in Australia su più o meno anche di 10.000 persone. In entrambi i casi quello che è stato visto è che la differenza di qualità dell'alimentazione non è così legata al peso corporeo, cioè più o meno è stato visto che la qualità di persone che hanno una qualità di alimentazione alta sono il 10% in tutti i tipi di peso, sottopeso, normopeso e sovrappeso barra obesità, insomma. Ok. Quindi viene utilizzata la divisione dell'indice di massa corporea, ok? Mentre il 70% più o meno è un'alimentazione di qualità media e un restante più o meno 10-20% è un'alimentazione invece di qualità considerata alta, ok? Quindi in realtà più o meno anche la qualità dell'alimentazione è molto simile tra i diversi gruppi di peso corporeo. Ovviamente questo non è conclusivo, ok? Se no altrimenti si rischia di semplificare o banalizzare un po' l'argomento. Però ci apre all'idea che così come per tanti altri aspetti, anche nel peso, ci possa essere una variabilità al di là dell'aspetto tra virgolette patologico, ok? C'è un esempio che faccio sempre e che spero possa essere d'aiuto anche qui, che è quello delle curve di crescita del bambino. Non so se avete presente, le curve di crescita sono quelle famose grafici che ci ricordiamo nel librettino del bambino di noi quando eravamo piccoli con le curve, da una parte c'è l'età, da una parte c'è l'altezza e poi viene messo il puntino per vedere come è stata fatta la crescita del bambino, ok? E quel puntino che intreccia l'età e l'altezza del bambino in quel momento ci dice se è vicino alla media degli altri bambini, se è molto più basso quel bambino o se è molto più alto. Il fatto che sia molto più basso, molto più alto non è di per sé indici che allora sicuramente qualcosa non va, perché nell'altezza ormai abbiamo interiorizzato abbastanza il fatto che è naturale che ci siano persone basse, la maggior parte delle persone sarà in un'altezza media. Può essere un campanello di allarme, può essere che effettivamente ci sia un'altezza bassa o alta perché qualcosa non sta andando del tutto bene nella crescita, ma può essere solo una caratteristica della persona, ok? Ecco, lo stesso tipo di sguardo è quello che si inizia a cercare di sposare anche nel guardare a un altro parametro come quello del peso. Quindi non c'è un peso giusto, un range di pesi giusti e per i ori, se il corpo è grasso, se il corpo è molto magro, sicuramente c'è qualcosa che non va. Ci può essere un campanello di allarme come può essere per la curva di crescita del bambino, ma può essere anche una caratteristica fisiologica. Quindi anche il peso seguirà il famoso andamento gaussiano e quindi la maggior parte delle persone avranno un peso medio. Una parte minore avrà un peso alto, una parte minore avrà un peso basso e ci saranno poi fra chi ha un peso alto e un peso basso, ma anche chi fa un peso medio, che è in un peso che non è per quella persona di benessere, ma è un peso risultato di una situazione di maressere di vario tipo, ma anche persone che hanno quel peso perché è il proprio peso naturale per input genetici, ambientali, sociali, eccetera, no? E questo ci aiuta anche ad approcciarci in modo diverso poi nella pratica, no? Di fronte alle persone, perché allora io non posso dare per scontato guardando una persona che quella mangi troppo, quella mangi male, che ci sia un problema legato al peso, che ci sia un problema nutrizionale, se faccio mio l'idea che un peso naturale può essere a qualsiasi livello di peso, andare un po' più a fondo. Perché magari a volte se ti vede una persona con un peso maggiore normale si pensa direttamente dovrebbe mangiare meno, quindi c'è direttamente il collegamento, il primo punto dovrebbe essere più magra, il secondo è colpa sua se non è magra e dovrebbe mangiare meno. Invece il fatto che appunto il peso sia una cosa che noi possiamo in qualche modo regolare del nostro corpo, anche a livelli estremi, invece l'altezza non la possiamo cambiare troppo a meno che non mettiamo i tacchi e quindi diciamo è una cosa che anche dall'esterno nessuno ci coppevolizza, se siamo bassi, diciamo dovresti essere più alto e quindi ci porta ad aspirare ad un certo modello, invece col peso purtroppo è quello che succede. Penso che la seconda parte del tuo discorso è veramente preziosa e sia anche un po' la chiave anche di lettura, cioè nessuno da fuori ci coppevolizza a sé, perché alla fine provando a immaginare idealmente se ci fossero così tante pressioni sull'altezza magari anche lì verrebbero trovate tecniche di chirurgia, integratori, strade magiche o possibili per cambiare l'altezza, però non c'è questa grande pressione, quindi non ne nasce nemmeno l'esigenza di forzare il corpo in questo senso, mentre come dicevi te ovviamente le pressioni sul corpo, sul peso sono diverse e quindi da qui nasce anche poi l'esigenza di trovare delle strade per cambiare la forma del corpo. Un altro aspetto che hai detto te e che trovo possa essere prezioso lasciare lì riguarda il... ti viene da dire ah vedi siccome hai questo peso devi mangiare meno, devi fare quest'altro e inizia tutto un loop, tanto che appunto negli ultimi anni, anche grazie a questi studi un po' precursori, tanti studi stanno andando a indagare anche questo, cioè effettivamente quanti sono poi gli effetti di queste supposizioni che poi nella pratica diventano quelle che vengono chiamate un po' discriminazioni, quindi siccome hai questo peso, prima di accedere a questa cura troviamo 50.000 altre strade, se invece hai un altro peso è più un accesso diretto, oppure per esempio se ho questo peso più difficilmente mi sentirò a mio agio andare in palestra e quindi anche il mio accesso ha magari luoghi di movimento che potrebbero magari, da cui potrei trarre del giovamento di benessere al di là del peso, diventano più piccoli, no? Quindi tutto questo effetto onda di questo dare per scontato te che dicevi tu, ha poi un impatto diretto sulla salute e quindi negli ultimi anni ora sì si sta cominciando a far domande qui e indagare molto questa sfera poi. Bene sì, quindi speriamo che piano piano si possa andare sempre più in questa direzione, possiamo avere una visione un pochino più ampia, stiamo diventando tolleranti su tante cose e poi invece su altre che magari ci sembrano meno rilevanti come l'aspetto della vita, però rischiamo di diventare più severi e quindi è meglio evitare e lasciare un po' più di libertà a tutti. Sì sì sì, speriamo che piano piano si aggiungano un po' di complessità, un po' di sfumature e poi sai ci sono secondo me aspetti che richiedono proprio tempo anche come dicevamo all'inizio nel mondo e di evoluzione dell'uomo in generale, no? Quindi alcuni aspetti sono più evidenti in qualche modo, alcuni aspetti sono più normalizzati, sono più interiorizzati da noi, interiorizzati dal mondo e ci vuole un po' più di tempo perché si noti una discrepanza e si vada un po' a indagare, quindi tempo al tempo. Aspettiamo, fiduciosi. Bene, grazie infinite, Giada è stato davvero interessante il suo intervento, se avete domande da porle la trovate su Instagram e potete seguire e io ripasso la linea allo studio virtuale, ciao! Ringraziamo Romina e il suo ospite e bentornati in studio, siamo tornati al momento di Grandi e Piccini e il momento della barza. Oggi Andrea ne ha una e basta, io mi fermo. Un po' con l'entusiasmo piatto della canzone mononota di Elio, introduciamo la barza. Sai cosa dice il libro di scienza e il libro di matematica? Stupiscimi. Eh ma tu sei proprio pieno di problemi. Era brutta, era terribilmente brutta. Ma d'altronde stanno finendo le feste, quindi è giusto che siamo anche un po' depressi, un po' terribili. Bene, come avevi annunciato, anche io faccio un discorso, vi racconto qualcosa che è un po' un escursus storico. In realtà è un escursus storico, ma proiettato anche al futuro, se vogliamo, nel senso che vorrei parlare di un concetto che a noi fisici piace particolarmente, che è quello di simmetria. Ora, il concetto di simmetria, di solito noi pensiamo ad esempio a una roba che è uguale ad est, cioè guardiamo la faccia di una persona e vediamo quanto è simmetrica e quanto no. Ci sono un sacco di cose interessanti su questo. Uno è il fatto, per esempio, che se noi consideriamo qualunque oggetto, come può essere per esempio l'immagine del viso di una persona, possiamo sempre ottenerlo come somma di un'immagine perfettamente simmetrica e di una perfettamente antisimmetrica, cioè con pesi diversi. Questo ci consente di fare qualunque cosa, sostanzialmente. C'è sempre una parte simmetrica e una parte antisimmetrica e questo ci crea qualunque oggetto reale. L'altra cosa interessante delle simmetrie, come le intendiamo noi fisici, è che ci sono almeno tre diverse simmetrie fondamentali, cioè quelle che noi applichiamo al mondo subatomico dove, che è un po' l'unico su cui abbiamo delle equazioni circa esatte, le più esatte che abbiamo. Ti aspettavo al barco, ti aspettavo al barco. Esatte, ma esatte. Circa esatte. Fino a un certo punto. Le più esatte che abbiamo, diciamo. E sono le tre simmetrie di coniugazione di carica, inversione di parità e inversione temporale. Ora, la coniugazione di carica vuol dire sostanzialmente sostituire ogni particella alla sua antiparticella. E qua una volta un collega, un collega ingegnere, che aveva una fidanzata, che adesso è sua moglie, è biologa. Un'altra barza? No, no, è una realtà, una realtà tragica. Lavoravamo insieme su un esperimento basato su un fascio di antiprotoni e mi dice, dovresti spiegare a una persona che non ne sa niente, nel caso specifico della sua fidanzata è allora, che cos'è un antiprotone? Che cos'è l'antimateria? Che cosa gli dovrei dire? Vuoi dare una risposta in cui cerca di capire qualcosa o quella per fargli smettere di chiedere. Dimmene tutte e due. Quella per fargli smettere di chiedere sono le soluzioni di energia negativa dell'equazione di Dirac. Perfetto. E qui abbiamo perso tutti. Quella invece un po' più intelligente è una particella uguale a una particella che ha un sacco di caratteristiche identiche a quella di una particella di materia ordinaria, soltanto che ha alcuni numeri che sono opposti, tipo ad esempio la carica elettrica o altre cariche fondamentalmente di altre interazioni fondamentali, ad esempio la carica di colore nell'interazione forte si inverte. Quindi ci sono alcuni numeri che sono identici e altri che sono opposti. La massa identica, la carica elettrica opposta sono i due esempi più caratteristici. Quindi se io inverto, prendo un fenomeno fisico, sostituisco tutte le particelle con le corrispettive antiparticelle. Se parto da un mix di particelle antiparticelle avrò un mix di antiparticelle e particelle scambiando ciascuna particella con la sua antiparticella e viceversa. Le stesse leggi fisiche che mi descrivono il fenomeno iniziale mi descriveranno anche il fenomeno con tutte le particelle antiparticelle invertite. Questo è la simmetria di parità, di coniugazione di carica. Questa è quella, una delle più semplicate in realtà da descrivere perché particelle antiparticelle sono un po' fuori dal nostro uso normale. Le altre due, P e T, sono invece apparentemente più semplici. T per esempio è l'inversione temporale. Se io descrivo un fenomeno fisico che evolve col tempo, se io cambio segno al tempo, lo guardo all'indietro, la stessa legge in cui ho meno T come variabile temporale invece che T, cioè il tempo che viaggia all'indietro, mi descriverà lo stesso fenomeno fisico. Per esempio un oggetto che cade, ovviamente se io lo guardo all'indietro è un oggetto che dal basso sale verso l'alto. Però la stessa legge della caduta di un grave, cambiando segno al tempo e cambiando l'istante finale con l'istante iniziale e viceversa, si ottiene la descrizione esatta di quello che io vedo guardando il mio filmato all'indietro. L'inversione di parità è una cosa analoga. Io invece di guardare di invertire il tempo, inverto lo spazio, cioè guardo un fenomeno fisico dentro lo specchio e quello che io vedo dentro lo specchio è descritto dalle stesse leggi fisiche. Questo è vero, non sempre. Nelle cose complicate come un essere vivente non è vero quasi mai, perché per esempio se io guardo me stesso allo specchio vedo una persona col cuore a destra invece che a sinistra. Certo. E quindi questo in realtà esistono persone che hanno il cuore a destra, sono una piccolissima minoranza, però diciamo la maggior parte degli esseri umani ha il cuore spostato verso sinistra nel suo torace. Se io guardo fenomeni subatomici, normalmente questo fenomeno invece non avviene, cioè il fatto che io abbia un oggetto girato in un qual modo o nel modo opposto, cioè se io osservo la realtà nel mio laboratorio o attraverso uno specchio vedo fenomeni che sono identici. Quindi dipende anche dalla scala del fenomeno che voglio osservare. Diciamo dal livello di complicazione. Complicazione. Io dico sempre la fisica delle particelle è semplicissima, quindi la cosa più semplice che ci sia, fatta dagli oggetti più semplici che ci siano e quindi si comportano in modo semplice. Anche ad esempio tu prima citavi certe lumache per i pigmenti, no? Anche le lumache sono avvolte e sono girate in un certo modo. Se le guardo nello specchio vedo una lumaca che non esiste in natura, perché è girata nel modo opposto. Ok. È avvolta nel modo opposto. Però per esempio, scusami questo è un dubbio che forse ci rientra. Perché le lumache, per esempio, nell'emisfero boreale hanno un avvolgimento, mentre nell'emisfero australe hanno un avvolgimento contrario? Allora, io questa cosa qui non so neanche se sia vera. Te la controllo adesso, te la controllo. Già la settimana scorsa ho rischiato di far morire dei biologi confondendo alghe e piante, quindi non vorrei... Magari anche io. Continua, io ricontrollo questa cosa. Non vorrei addentrarmi in cose troppo al di là del mio, troppo fuori dal mio range. In tutto questo, in realtà ci sono delle cose che cambiano. Per esempio, se io considero un campo magnetico, il campo magnetico lo posso sempre immaginare come generato da un'aspira percorso la corrente. Cioè se faccio un avvolgimento, un solenoido, un avvolgimento, e ci faccio passare dalla corrente dentro, il verso, la direzione in cui cammina la corrente viene riflesso dallo specchio in una direzione opposta. Però, a seconda di come io giro il mio solenoide, la direzione del campo magnetico non cambia. Cioè se io metto il solenoide, l'asse del solenoide perpendicolare allo specchio, il campo magnetico nella realtà, per esempio, entra nello specchio, nello specchio la corrente gira nello stesso modo, e il campo magnetico esce dallo specchio, al di là dello specchio. Quindi diciamo il campo magnetico non viene riflesso dallo specchio. È un caso, noi lo chiamiamo di pseudo-vettore, perché è un vettore che non viene riflesso nello specchio. Questo è un fenomeno abbastanza ostile per certi versi, nel senso che ci sono quindi delle grandezze fisiche, come il campo elettrico. Il campo elettrico viene correttamente riflesso dallo specchio, nel senso che se io metto due cariche elettriche, il campo elettrico va dalla carica più alla carica meno. La carica più e la carica meno non cambiano segno nello specchio, e nello specchio il campo elettrico continuerà a girare dal più al meno. Se io ho un campo elettrico e un campo magnetico, nello specchio opportunamente posizionati, nella realtà magari sono diretti nella stessa direzione e nello specchio sono diretti nella direzione opposta. Perché se io ho messo il solenoide con l'asse rivolto contro lo specchio e le due cariche, il cui segmento congiungente è diretto di nuovo verso lo specchio, in un caso il campo elettrico e il campo magnetico puntano tutte e due nello specchio, nell'altro caso uno punta verso lo specchio, il campo elettrico, e l'altro punta nella direzione opposta, il campo magnetico. Quindi se io trovo una relazione tra vettori e pseudo vettori che in qualche maniera li lega insieme nel modo corretto, allora quella relazione potrebbe avere degli, come posso dire, se qualche grandezza vettoriale è legata, è proporzionale a una grandezza pseudo vettoriale nella realtà, quello che io vedrò nello specchio sarà diverso dalla realtà, anche per le particelle elementari. Questa cosa è valsa al premio Nobel a dei ricercatori negli anni 50 che hanno osservato che il decadimento, la direzione prevalente di uscita degli elettroni in un decadimento radioattivo, era legata al fatto che questi nuclei fossero all'interno di un campo magnetico. Quindi io ho il campo magnetico con uno pseudo vettore, la direzione in cui escono delle particelle, che invece è un vettore vero, perché se io lo guardo nello specchio, se le particelle vanno verso lo specchio nella realtà, vanno verso lo specchio anche nell'immagine riflessa, vengono verso lo specchio anche nell'immagine riflessa, ma il campo magnetico no, il campo magnetico cambia direzione, quindi se nello specchio, se nella realtà la particella va preferenzialmente nella stessa direzione del campo magnetico, nello specchio va preferenzialmente nella direzione opposta del campo magnetico. E questa è stata una verifica della violazione di P, la prima violazione di P che sia mai stata misurata. Poi ci sono state delle altre violazioni, perché poi in realtà a quel punto lì uno diceva cavolo, se se ne è violata una, possono essere violate tutte. Noi pensavamo, in modo un po' naif, che queste tre leggi fossero tutte, diciamo queste tre simmetrie fossero tutte conservate sempre. Questa cosa non era proprio del tutto vero e quindi una volta che vedi che non è vera per una, cerchi di capire se sono vere anche per le altre, o meglio se non sono vere anche per le altre. L'idea, i primi che hanno capito che poteva essere possibile avere una violazione anche di T, sono stati due giapponesi, Kobayashi e Masukawa, sempre negli anni 50 del secolo scorso, poco dopo diciamo la scoperta della violazione di P che invece era stata a opera di ricercatori sino-americani, soprattutto la V che è stata la K diciamo di questo esperimento che è diventato storico. L'idea appunto era quella che se noi avessimo avuto almeno tre famiglie di particelle, ci potevano essere sempre all'interno dell'interazione debole. L'interazione debole ha la caratteristica di mescolare le particelle tra di loro. Se noi consideriamo l'interazione elettromagnetica per esempio, un elettrone che emette un fotone, l'elettrone emette un fotone ma rimane un elettrone. Nell'interazione debole questo non è sempre vero. Ci sono in particolare le cosiddette correnti cariche in cui non è mai vero, ovvero sia se io ho un elettrone che interagisce con un bosone W, che sia W più o W meno, emette un W meno o assorbe un W più, si trasformerà questo elettrone in un neutrino. Ma non si trasformerà in un neutrino sempre dello stesso tipo, o meglio, si trasformerà in un neutrino sempre dello stesso tipo agli occhi del bosone dell'interazione debole, che non sono gli occhi degli autostati di massa, ovvero sia le particelle come interagiscono con l'interazione debole non sono le particelle come evolvono muovendosi nello spazio. Cioè l'elettrone viene visto dall'interazione debole come una sovrapposizione di elettrone muone e tau. Quindi il bosone che vede arrivare un elettrone non vede un elettrone come lo vediamo noi, lo vede come se fosse in qualche modo mescolato con le altre particelle del suo tipo. E quindi l'elettrone che esce, o meglio il neutrino che esce dall'interazione, non sarà necessariamente un neutrino di tipo elettronico, potrebbe essere un neutrino di tipo elettronico muonico o tauonico. Questa stessa cosa avviene anche per le particelle, per i quark. Quindi i quark di carica più due terzi, up, charm e top, si mescolano quando interagiscono con l'interazione debole e ciascuno di essi ha una certa probabilità di trasformarsi, di essere accoppiato, come si dice, con un quark di tipo di carica meno un terzo. Quindi down, strange o beauty. Quindi questo rimescolamento nelle famiglie fa sì, se ci sono almeno tre famiglie, e come Yash e Mascavano hanno avuto quest'idea veramente geniale di intuire questa cosa quando se ne conoscevano solo due, se ce ne fossero almeno tre, ci sarebbe la possibilità di avere all'interno della matrice di mescolamento, si chiama, di mixing tra queste particelle, una fase, e una fase è un qualcosa che viola la simmetria temporale, un angolo, una rotazione particolare che violerebbe la simmetria temporale. Questa cosa ci è voluto parecchio tempo perché tanto si scoprisse la terza famiglia di particelle, cosa che Kobayashi e Mascava non sapevano che ci fosse. All'epoca c'era la matrice di Kabibbo che mescolava due famiglie di particelle, l'angolo di Kabibbo veramente si chiamava, poi è arrivata la matrice di Kabibbo-Kobayashi Mascava perché si è scoperta la terza famiglia e nel giro di pochi anni è stata scoperta effettivamente anche la violazione di CP o di T, perché noi presupponiamo che CP e T siano simultaneamente tutte e tre conservate, cioè se noi simultaneamente ribaltiamo lo spazio, ribaltiamo il tempo e scambiamo particelle con antiparticelle, dovremmo riavere una simmetria esatta. Questo è un teorema che deriva da considerazioni molto fondamentali. sul funzionamento della meccanica quantistica e della relatività fondamentalmente. Ovvero sia, se noi scoprissimo una violazione del teorema CPT, dovremmo rinunciare a qualcosa di estremamente, a cui siamo estremamente legati e affezionati, ovvero sia l'impossibilità di viaggiare a una velocità più alta della luce, o meglio, una limitazione che noi tutti crediamo che sia vera, quella della velocità della luce. Quindi, in linea di principio, noi in realtà tutti speriamo di trovare una violazione di CPT per poter viaggiare più veloci della luce. Come cercare questa cosa non è del tutto banale, perché ci sono in realtà un sacco di possibili esperimenti che potrebbero vedere una violazione di CPT. La violazione di P l'abbiamo vista con i decadimenti radiattivi. La violazione di CP, o in alternativa della simmetria temporale, deriva, si può osservare, in decadimenti di particelle elementari, o particelle subatomiche, diciamo, più propriamente. In particolare, i bosoni B e K hanno dei fenomeni che, diciamo, dei decadimenti B0 e anti-B0, K0 e anti-K0, hanno dei fenomeni di decadimento che sono leggermente diversi tra di loro e questa superleggera differenza è legata a quella famosa fase che citavo prima nella matrice di mescolamento. Questo è stato osservato ormai già da anni, quindi noi sappiamo che ci sono queste violazioni di CP, cosa estremamente utile, perché senza la violazione di CP non ci potrebbe essere una simmetria tra materia e antimateria nell'universo, quindi senza questa cosa qua non ci sarebbe materia nell'universo fondamentalmente. Questo sarebbe molto seccante, perché non ci sarebbe niente e quindi, diciamo, ci doveva essere per forza. Anzi, quello che noi osserviamo nel settore dei quark è troppo poco per giustificare tutta la materia che c'è nell'universo, quindi aspettiamo di osservare qualcosa del genere anche nel settore dei leptoni, quello che ancora non abbiamo osservato è una violazione della simmetria CPT. Questa cosa però viene cercata, perché? Perché ci sono dei potenziali casi in cui effettivamente questo fenomeno potrebbe accadere e ci sono diversi modi in cui potrebbe accadere, sia fondamentalmente tutti legati alla gravità quantistica, cosa di cui ancora sappiamo sostanzialmente niente. Il che vuol dire che noi potremmo andare a cercare, sia nel settore dei neutrini in particolare, che forse quello a oggi più promettente, dei segnali di violazione di CPT. Tutto questo, soprattutto i neutrini di origine astrofisica, quelli che vengono da sorgenti molto lontane, che potrebbero avere sostanzialmente incontrato un fenomeno abbastanza complesso che chiama decoerenza, cioè il fatto che appunto i neutrini vengono prodotti da un'interazione debole che non vede i neutrini con gli occhi della massa e quindi i neutrini quando si propagano invece si propagano sostanzialmente a seconda della massa che hanno e quello che noi andiamo a misurare a distanza è un mescolamento di quello che ha generato l'interazione debole all'origine e invece la propagazione durante il loro viaggio. Quindi insomma questa doppia, come posso dire, origine dei neutrini che noi andiamo ad osservare ha la caratteristica, potrebbe avere la caratteristica giusta per mostrarci questi fenomeni di violazione di CPT. Di cui però non sappiamo ancora una mazza, però insomma se vogliamo andare da qualche parte che non sia proprio nella stramigliore delle ipotesi a vedere il sistema di Proxima Centauri dobbiamo sperare che ci sia, altrimenti non viaggeremo mai abbastanza veloci. È interessante, è fighissimo, soltanto che sono dei, boh, speriamo, guarda. Pensa se abbiamo partiti a guardare le cose o facendo girare il filmino all'indietro o guardandole simultaneamente sul tavolo e nello specchio. Esatto. Però poi è un attimo che scagli a pensare di viaggiare più veloce della luce. Riguardo la cantonata che stavo prendendo prima, delle lumache al contrario, era un problema di chiralità, cioè la volevo porre su quello, non so se poi la chiralità come si inserisce in questo tipo di, nella simmetria, nel concetto di simmetria. La chiralità, ad esempio le particelle subatomiche viaggiano con lo spin allineato alla velocità, se la loro energia è molto maggiore della loro massa. Questo vuol dire che per esempio i neutrini hanno chiralità definita, perché hanno una massa sempre molto piccola e tutti i neutrini sono levogiri, tutti gli antineutrini sono destrogiri. Ok, perfetto. Essa è una cosa fighissima, perché ci sono delle conchiglie che normalmente sono tutte destrogire in teoria, però quella notizia che ho letto io che mi stava facendo confusione è che c'erano delle specie levogire, quindi che girate verso sinistra, estinte, che erano molto diffuse nell'emisfero boreale, mentre la variante destrogira era invece nell'emisfero australe. Era una... perché poi in alcuni casi poteva capitare, poiché dipende da come sono costituiti amminoacidi, se tutti gli amminoacidi sono destrogiri, la maggior parte delle strutture è destrogira, quindi sono delle mutazioni, però erano dovute alla chiralità, quindi era una cosa che forse non ci azzeccava tantissimo. No, no, cioè... È un ambito veramente diverso. Su termine usiamo anche in fisica delle particelle, in realtà sarebbe l'elicità, solo che l'elicità e la chiralità corrispondono in fisica delle particelle se sono appunto... se stiamo parlando di particelle che hanno un'energia molto maggiore della loro massa di riposo, se viaggiano molto veloci sostanzialmente. Ok, credo che nonostante sia stata una puntata senza particolari spunti di attualità, a parte il fatto di mettersi a dieta dopo le vacanze, grazie Romina per ricordarcelo, e a noi che siamo diversamente magri, direi che abbiamo già detto forse più di quello che era lecito aspettare che i nostri ascoltatori ascoltassero. Quindi è giusto il momento dei nostri contatti, ci trovate al solito info.scientificast.it o su tutti i social, Twitter, Facebook e Instagram, dove potete mandarci messaggi, scriverci, chiederci, insultarci, darci uno sprone, oppure su Telegram dove potete anche interagire con tutti noi. C'è stato, sulla puntata della settimana scorsa, c'era stato lo spunto della difficoltà di innevare, dell'impatto ambientale dell'innevamento artificiale, questo ha tenuto banco in questi giorni parecchio, perché appunto la sensibilità ecologica è qualcosa su cui siamo abbastanza attenti anche oggi, è venuta fuori. Col colore. Per donazioni varie eccetera, c'è il nostro account di Paypal e quindi donate, donate, donate. Mamma mia, bello dopo le ferie così, dopo le vacanze, partiamo a cannone. Sì, sì, sono tutti ricchissimi. Tutti ricchi, con le mazzette delle nonne, datene qualcosa anche a scientifica. Grazie a tutti e alla prossima. Alla prossima, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.